C'è una sola parola che il tecnico Giuliani ripete ai suoi da mercoledì sera, vincere. Domani alle 18 al Palabanca contro la Top Volley Latina, terz'ultima con quattro punti in classifica, la LPR Volley Piacenza deve assolutamente incamerare la vittoria piena. Tre punti per continuare la risalita. Dopo la vittoria in quel disoro a martedì, infatti, i quartieri alti sono più vicini e un successo consentirebbe ai Biancorossi di proiettarsi a ridosso delle corazzate. Beneficio di un calendario che, dopo un inizio durissimo, concede ora qualche turno più morbido. La partita contro la Revivra a Milano di otto giorni fa, vinta a fatica al tie-break, insegna però che nessuna squadra va presa sotto gamba. Anzi, i laziali sono reduci dalla vittoria interna per 3-1 contro Molfetta e hanno il morale alle stelle. La squadra è allenata dal vecchio volpone Daniele Bagnoli, uno che di pallavolo se ne intende, e ha in rosa un giusto mix di giovani e giocatori di esperienza, tra questi l'ex Alessandro Fei. Giuliani schiererà la solita formazione, Rizzuelo in regia, Hernandez opposto, Alletti e Tencati al centro, Marshall e Clevnot di banda con mania libero. Perdere questa ghiotta occasione sarebbe un delitto.